Un nostro amico. Allora, questo è l'incipit di Brucia l'aria, che è l'ultimo romanzo di Omar. Si alternano due fasi in questo libro. Una fase scritta in corsivo, dove praticamente è come se ci fosse una voce narrante, che racconta quello che è stato e quello che sarà. Dopodiché, nelle pagine scritte con il carattere normale, c'è il corpo del romanzo vero e proprio. Quindi qui parte il corsivo e racconta questo. Quindi iniziate ad accomodarvi nella lingua di Omar. Si levò nell'aria la controra. Dapprima come un alito inatteso, un sussurro appena. Poco meno di un murmure monodico proveniente dalle piante lastrate di calcare nell'entroterra più fondo. Poi crepitando tra gli ori lustreggianti dell'estate, scanalando pianori soffocati dai carici e dai rovi il fuoco capolinò. Una sciarpa di fumo filaccioso ne preannunciò l'avvento srotolandosi nella chiarità del cielo adamantino, a di là dei dossi sabbiosi delle dune. Guadagnò terreno drenando metro dopo metro ogni altro suono. Pose fino allo zirlare ritmico delle cicale, azzerò il lento sgranchirsi delle euforbie nell'aria solatia per insediare ovunque il flegre o dominio del proprio ruggito. Le sue lingue arroventate guizzarono sempre più i rose tra i canneti fitti ai bordi della costa, facendoli fischiare come le eco di lance agitate in battaglie perdute nella memoria. Simile a un mostro puniceo liberato da un'agonia secolare, si dipanò svelto facendosi strada sul suolo giallo di restucce, prosciugando le rade limaglie tra i ciottoli e divorando instancabile il verde frondoso della verzura. Il fuoco raggirò i massi marchiati dai trilobiti e incenerì la sterpaglia, sbiettando ardente, impunito, brutale. Si installò infine con iattanza tra i rami a forcella dei lecci piegati dal maestrale per lambire da lì, strazio di ogni simmetria, la litoranea popolosa di casamenti abusivi e villeggiatori affaccendati. Sotto lo sguardo attonito dei bagnanti, una moltitudine di corpi abbronzati e seminudi che la furia delle fiamme confinò ben presto sull'arenile, il sole parve ritrarsi dalla spiaggia brunendo l'incurvatura dell'orizzonte, mentre il fumo si addensava in una nebbia astigia che oscurava i contorni e inghiottiva la fila delle automobili parcheggiate sul lungomare fino a paese. I mezzi di soccorso arrivarono a frotte, urlanti, quando quel lavernoso regno si estendeva ormai già oltre le marine, mordendo i margini dell'oasi naturale e mettendo in fuga torme di volatili gracchianti. Per giorni i tubi catodici dell'intera penisola replicarono a nastro le immagini dello sciame disordinato delle autopompe dei vigili del fuoco, tra caligini color peltro e i voli a pelo d'oceano dei canader che rimpinguavano d'acqua i propri ventri d'acciaio per scaricarla a intervalli concatenati su quell'apocalisse sfrigolante di Lapilli. Ma il fuoco non arretrò di un millimetro. Continuò imperterrito a esercitare la propria tirannide in un assordamento di schianti e di fragori, senza requie, facendosi beffe di ogni umano tentativo di rabbonimento, alimentando le illusioni degli operatori della protezione civile e poi spossandoli con improvvise devastanti vampate. Sino a quando una brezza luminosa non spirò dalle alture dei Balcani, sospingendo sulla Puglia un gigantesco fronte di nuvole in grisaglia. La pioggia, invocata come un miracolo, si scatenò violenta e liberatoria tra sentori di ozono e folgori argentate. Nugoli di rizomi elettrici, come truppe di una cavalleria spettrale, squassarono il cielo per ammansire gradualmente il rogo, riducendolo a una distesa di arbusti fumanti e rimandando così, ancora di una volta, quella resa dei conti definitiva che dalla notte dei tempi s'attardava. E quando gli uomini, arrendevoli, scorati, trassognanti, si ritrovarono tra i coriandoli anneriti di quel funesto carnevale a rendicontare l'entità della devastazione, nella foresta di ceppi capitozzati da cui l'incendio sembrava essersi propagato, venne scoperto un cadavere. Erano le spoglie incarbonite di un pompiere, un professionista veterano, magnificato non di rado dalle cronache locali per la sola erzia con cui avversava la rabbia del fuoco. Le indagini rivelarono che, di quella rabbia, l'uomo era invece stato per anni il migliore agente. E questo è l'incipit di Brucia l'aria. Io, prima di dare la parola a Omar, vi assicuro che tutte le persone a cui io ho proposto dopo essermi innamorato, questo qua è il primo libro che io ho letto di Omar, di Monopoli, Nella perfida terra di Dio. Quindi io personalmente sono affezionato come un figlio primogenito, non che gli altri sono belli uguali. E anche l'incipit della perfida terra di Dio ha questa lingua barocca che si freggia di un italiano veramente molto alto in alcuni passi e che si inframezza poi con il dialetto pugliese, quando lo leggerete vi divertirete a sentire questa miscellanea tra un grande italiano, il dialetto pugliese e neologismi creati tra queste due lingue. Sentire queste due pagine forse la cosa migliore sarebbe, non conoscendole, magari non arriva tutta la potenza, bisognerebbe sentirle quasi ad occhi chiusi perché lui, essendo anche un fotografo, un amante della fotografia del cinema, crea delle immagini che ti si stampano negli occhi e rimarranno poi architetture di molti sogni che farete nel proseguo della vostra vita. Quindi grazie Omar e la parola a te. Io lo farei parlare su questo, che dici Capo? Visto che hai lanciato il tema del linguaggio, tra l'altro lui poi, come alle prime comunioni, ti mettiamo in piedi sulla sera perché lui sa a memoria l'incipit della perfida terra di Dio. Visto che hai toccato il tema del linguaggio, io gli farei raccontare un po' di come lo costruisce questo linguaggio che è solo tuo. Sì, allora, grazie a tutti, buonasera a tutti. Proviamo a sistemare alcune delle questioni che avete tirato fuori e, come dire, l'avete fatto naturalmente con grande passione e vi ringrazio per questo. Sono lusingato anche della Corte che avete saputo farmi in questi mesi perché per me è problematico spostarmi dal luogo in cui vivo fino a qui ma devo dire che ho trovato un'accoglienza strepitosa e ve ne sono grato. Allora, io sono ormai 20 anni che, diciamo, sto costruendo un universo mio letterario che è figlio di alcune suggestioni, anche fotografiche, cinematografiche, ne parliamo, che hanno come sfondo la Puglia ma che, vedremo in qualche maniera, è una Puglia trasfigurata, trassognata nella quale io voglio provare a far intravedere diciamo un'idea universale della provincia, della marginalità, della periferia e quindi ho cominciato a farlo con Uomini e Cani nel 2007, 2005, è uscito nel 2007 e quindi sono un po' di anni, un po' di libri che sto disegnando, una sorta di mappatura letteraria di questa terra e lo faccio attraverso gli stilemi del genere per cui i miei sono romanzi western, noir, diciamo, le etichette si sprecano, sono comunque romanzi di genere nella misura in cui il fulcro di queste storie sono le pistolettate, la criminalità di basso capotaggio, l'abusivismo, il malaffare, però attraverso queste storie provo anche a decodificare la mia realtà innanzitutto e poi forse in senso più ampio possibile la realtà, come diciamo è quello che dovrebbe fare ogni scrittore, ogni artista, se mi permettete la parola grossa e quindi quello che viene fuori da queste storie è per l'appunto attraverso una serie di vicende che attengono a dei personaggi che spesso sono dei bifolchi, avete letto l'incipit di Brucellaria che nello specifico parte con il grande incendio degli anni 90 che è realmente avvenuto dalle mie parti e che ha bruciato una parte di riserva naturale importante e io ho immaginato che l'artefice di questo gigantesco incendio fosse questo Livio Caraglio un personaggio ex pompiere quindi un ex eroe anche che per certi versi si è lasciato come diciamo dalle mie parti infascinare dal fuoco e ne è diventato un agente e ne è diventato un piromano e ne è diventato insomma un portatore di distruzione e quindi ho immaginato in Brucellaria che lui morisse all'inizio di questo incendio e i figli di questo Livio Caraglia dovessero confrontarsi per tutto il romanzo con una serie di marchiature il primo marchio è quello dell'infamia di avere un padre che era eroe e poi è diventato distruttore il secondo è quello di aver appoggiato abbracciato i valori della Sacra Colonna Unita che dalle mie parti nonostante passi per essere una mafia sconfitta dallo Stato ancora ha una sua vita propria forse per certiversi anche più pericolosa proprio perché come se fossimo nel vecchio West vive attraverso la vita dei piccoli clan di famiglia che come se vivessero in un feudo medievale ritengono i piccoli paesi il loro territorio e quindi attraverso queste vicende io ho messo a punto dei caratter dei personaggi che hanno una loro lingua che naturalmente essendo personaggi del popolino della popolaglia parlano questo dialetto questo innesto di dialetto e di italiano aulico che scusate intanto delle mosche stanno divorandomi ma è una lingua per l'appunto molto letteraria perché è una commissione di dialetti realmente esistenti e che io alterno e contrapunto invece a un italiano molto lirico molto aulico che finisce questa commissione per creare appunto un registro che come diceva Carlo è per certi versi da ascoltare a occhi chiusi nel senso che la mia idea della pagina bianca della pagina letteraria da riempire di parole è musicale cioè io intendo la cartella del lavoro come una vera è propria partitura e per cui come una partitura un lettore dovrebbe abbandonarsi a queste pagine non soffermandosi su per esempio il fatto che alcune di queste parole sono forse sconosciute perché poco usate il lavoro che faccio io è anche di estrema ricerca sulla terminologia sulla lingua quindi compulso tanto il vocabolario e spesso mi sento dire dalle presentazioni che i lettori hanno poi finito per compulsarlo per cercare di capire cosa dicevo ma non solo questo mi piace molto gratifica il mio lavoro di scrittore ma mi preme sottolineare che non è così importante proprio perché a un certo punto non è così importante che il lettore comprenda interamente ciò che sta leggendo esattamente perché se si intende la scrittura la lettura come una partitura musicale dovremmo semplicemente abbandonarsi alla musicalità alla melodia di queste parole e l'italiano è un tesoro sotto questo punto di vista perché è una lingua ricca di fonemi ricca anche di parole che il linguaggio contemporaneo dei twitter e dei social un po' ha depauperato di questa preziosità e che quindi noi scrittori in qualche maniera abbiamo anche il dovere e il diritto di recuperare e quindi il gioco che si fa attorno a questa lingua è per l'appunto di imbastire una lingua originale raccontando per certi versi cose che invece attengono a una tradizione archetipica cioè alla fine sono come se fossero tragedie greche come se fossero tragedie scespiriane fratelli che si odiano famiglie che vengono ripudiate assassini per amore o per odio profondo e quindi un reticolo di odio e vecchi rancori che non sempre trovano come dire una risoluzione o quantomeno una redenzione di questo ne parliamo perché chi legge chi si approccia a questi libri spesso trova che siano apparentemente senza speranza se poi però volete ne parliamo nel senso che io in realtà ho una speranza in questi libri la trovo e quindi come vedete c'è un progetto letterario dietro questa serie di libri ed è quello che mi porta insomma da quasi 20 anni a continuare a cercare di scandagliare attraverso questa lingua che come diceva Carlo è un po' barocca espressionista ma che ha evidentemente che ha abbracciato una prospettiva e quindi questo è tra l'altro due brevi considerazioni uno secondo me la tua scrittura è fantastica per la lettura ad altavoce secondo me perché non tutti i libri si prestano bene alla lettura ad altavoce e i tuoi sicuramente lo fanno voglio sentirvi leggere una parte in dialetto però adesso e aggiungo a proposito appunto di questo lui ricorre molto al dialetto naturalmente il suo dialetto che è il dialetto pugliese però quello che a me succede non so se Carlo hai anche tu questa hai vissuto anche tu questa stessa esperienza alla fine lo capisci lo capisci cioè vuoi per il contesto vuoi per la storia vuoi perché comunque poi quando lo apprezzi leggi più di un suo libro alla fine capisci anche i termini che non ti appartengono che non sono del tuo dialetto a me succede poi alla fine li faccio miei li comprendo sì se posso aggiungere una cosa su questo anche diciamo i grandi maestri della letteratura contemporanea ma anche quella del passato anzi forse più quella del passato fanno di continuo ricorso a questo effetto perché se penso per esempio a uno degli scrittori che ho guardato con grande adorazione a Cormac McCarthy Cormac McCarthy spesso utilizza lo spagnolo dei suoi personaggi che sono messicani e quindi paginate intere di dialogo in spagnolo che se il lettore non è avvezzo alla lingua latina non comprende ma che paradossalmente comprende proprio perché l'arte ha questa capacità di entrarti dentro anche James L. Roy un altro grande americano utilizza un linguaggio sincopato che all'inizio sbalestra il lettore ma anche lì a un certo punto si è dentro ma questo se mi permettete attiene a tutte le espressioni artistiche pensiamo alla pittura e alla capacità che ha di entrare nella testa dei fruitori anche quando non hanno particolare cultura pittorica e ancora di più se pensiamo appunto alla musica quella a cui abbiamo fatto riferimento poco fa non so mi viene da pensare alla dodecafonia che è oggettivamente una modalità complessa ma che a un certo punto per quanto difficile entra dentro all'orecchio dell'ascoltatore questa è la grande sfida dell'arte ed è anche quello che ti permette di assaporare lingue che non conosciamo e se vuoi anche lo stimolo principale di leggere un libro cioè entrare in un mondo nuovo e vi assicuro che la mia più grande gratificazione e la più grande gratificazione per uno scrittore è quella durante la presentazione di ricevere la mano o porta di un lettore che dice io all'inizio non capivo un cazzo di quello che avevi scritto e poi a un certo punto magicamente ci sono entrato dentro e questo è secondo me la grande sfida vinta di uno scrittore ma vi giuro esattamente il piacere che provo anch'io nel mettere a segno queste pagine perché anche per me è un progetto da cui trago l'infa vitale e se mi permettete è anche lo scambio che c'è fra lettore e scrittore cioè il lettore non è un fruttore passivo di queste opere deve a me mi dicono delle volte però la tua lingua è difficile sì grazie a Dio è difficile dove sta scritto che il lettore deve semplicemente abbandonarsi e poi chiuderlo il libro dicendo mi è piaciuto o non mi è piaciuto non è assolutamente così c'è uno scambio fra me e il lettore ed è quello che rende la nostra comunità quella dei lettori una comunità grande aperta adulta ecco guarda io una delle cose per cui ringrazio questo tipo di scrittura ringrazio Omar è che sono anche da da libraio quindi spesso vengono a chiederci consiglio di libri noi leggiamo tanti libri spesso le persone si affidano anche solo per regali o per avere delle letture nuove quando propongo Omar di Monopoli quando lo proponevo soprattutto con il primo nella perfida terra di Dio che è stato il primo pubblicato da Adelphi allora li mettevo solo in guardia e dicevo però mi raccomando anche se all'inizio trovi qualche difficoltà nella lettura vai avanti vai avanti perché poi vieni attorcigliato dentro questa lettura e non riesci più a muoverti non riesci più a fare d'altro inizi a pensare con quel ritmo come una pendola no? quello che diceva Daniela prima io ad esempio l'incipit di questo libro dice l'impronta arancida della malattia non voleva saperne di abbandonare la stanza in cui il compare Nuzzo era morto aveva tirato le cuoie a tre giorni prima allignando stinata nel salotto dove le mosche accaldate ronzavano quindi è un continuo è un ritmo è una una ruota che gira ti avviluppa dentro tu non riesci più a farne a meno ed è quello che come lui diceva prima succede con grandissimi libri io stavo per mollare anni fa ho preso per la prima volta nelle mani non so se l'avete letto spero di sì se non l'avete fatto leggetelo non è un paese per vecchi Cormac McCarthy ok io tendenzialmente dovendo e volendo leggere almeno 100-150 libri all'anno non è che mi posso perdere dietro tutti per cui quando dopo 20 pagine non ne posso più lo mollo non era il mio momento non era il suo momento McCarthy stavo per mollarlo dopo 10 pagine per questo poi ho allungato a 20 o a 30 la franchigia no? perché nelle prime 10 pagine come Omar Cormac McCarthy come altri grandissimi scrittori non hanno la necessità di essere paraculi non vogliono invitare non ti stanno invitando loro stanno iniziando a raccontarti ma non ti fanno un tappeto rosso davanti ai piedi dopo ti trovi in discesa e tanto ti abitui alla lettura e al ritmo che ti trovi in discesa e quando vai in discesa sai che non riesci più a fermarti cosa succede? che io a McCarthy ho detto boh gli do ancora tre pagine dopo che erano le nove mi sono tirato su alla mezza così e l'avevo letto tutto e questa stessa cosa mi è successa nella perfida terra di Dio questi personaggi e questo ritmo che durante la notte continuano a risuonare a ridondarti nelle orecchie e diventano come spiegava lui prima rubandomi tutte le domande che volevo fargli creando degli archetipi dei veri personaggi epici senti un eco dell'epica omerica senti l'eroe l'antieroe senti il male il male puro il male vero e di questo non finirò mai di ringraziarti grazie a voi tra l'altro è una lezione che tutti noi abbiamo appreso persino il grande McCarthy dal capostipite di questa idea che è William Faulkner ed è sintomatico che parliamo qui di William Faulkner perché io personalmente l'ho conosciuto grazie alla traduzione del grande Cesare Pavese e cerco in qualche maniera si chiude per cui voglio dire l'idea di una letteratura massimalista che si contrappone ma in qualche maniera va in parallelo a quella invece del minimalista di un Hemingway cioè sottrarre 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 la mia idea è appunto di accumulare sino a restituire una visione onomatopeica della pagina scritta e questo però grazie a Dio non toglie niente al ritmo che deve avere invece la storia perché per esempio adesso in ottobre esce il fumetto tratto da Nella Perfidere di Dio e lì è interessante il lavoro che abbiamo dovuto fare perché abbiamo appunto dovuto depauperarla di tutti i barochismi della lingua perché è un media diverso e quello che mi ha piacevolmente stupito è che la storia però è rimasta serrata è rimasta quella e quindi ha acquisito diciamo una visione nuova rispetto a quella lì della pagina scritta e questo insomma la dice lunga sul fatto che la declinazione delle storie poi ha un suo precipuo valore che va oltre evidentemente alle semplici definizioni cioè la mia scrittura può essere definita barocca o meno credo che l'importante sia possedere una visione ecco e questo lo devo torniamo a parlare di SBN quel primo editore a cui tu hai fatto riferimento quando io sono arrivato in SBN che era una branca giovane sperimentale ultramoderna del saggiatore che invece è uno storico editore milanese e lì mi dissero quando hanno letto Uomini e Cani per la prima volta ci interessa molto ma non ci interessa uno scrittore di un libro di successo a noi ci interessa uno scrittore e questo mi mise una scintilla fondamentale per il mio lavoro a venire perché mi fece capire per l'appunto che avevo un cammino da fare un cammino costellato di più libri e soprattutto che c'era un lavoro lungo da fare proprio perché l'idea di scrivere un libro di per sé non ha valore se non hai compreso che devi per l'appunto abbracciare una visione quanto più ampia possibile cioè la letteratura deve diventare la tua vita e che è una scelta non facile perché vuol dire comunque una condanna ha una vita tutto sommato precaria però è stato un insegnamento importante e secondo me è anche sintomatico che poi quell'editoria adesso non esista più però mi ha dato una lezione importante per il mio mestiere io ho portato qua tre i tuoi libri e li vedi Uomini e Cani Nella perfida terra di Dio di cui Carlo ha recitato l'incipit e brucia l'aria hanno in comune molto qualcosa l'abbiamo già detto questo linguaggio che secondo me comunque nei tre libri ha una progressione per cui a me viene da dire non so se tu sei d'accordo che volendo approcciarsi a Omar di Manopoli in una progressione a livello di linguaggio forse sarebbe giusto proprio anche l'ordine di scrittura quindi Uomini e Cani poi nella perfida terra di Dio e poi brucia l'aria ma la lingua non è soltanto l'elemento comune l'altro l'avete compreso è questo luogo questa che la tua contea letteraria la tua Iocna Pataufa dicevamo che è una Puglia come avrete capito non è la Puglia delle cartoline non è la Puglia della Taranta della Pizzica del buon cibo del mare è una Puglia diversa una Puglia violenta una Puglia dove c'è abusivismo dove c'è ancora presenza della Sacra Corona Unita una curiosità che mi era venuta tu racconti questa Puglia che può essere disturbante per i pugliesi io penso a un Saviano che viene accusato di dare l'immagine solo di Gomorra nella sua terra a te non hanno mai fatto questa critica come no di continuo con la differenza che io sono stato un po' più paraculo di Saviano e ho cambiato i nomi i fatti gli avvenimenti sono mescolati i personaggi sono spesso fusi tra loro e mi riparo da buon scrittore di genere dietro alla definizione che sono fatti di finzione e finzione letteraria in realtà qualsiasi di questo episodio ha una base reale nella Perfiedere Dio tra l'altro ha come sfondo non solo l'Ilva io vengo da una zona che è come dire schiavizzata dai veleni del più grande impianto siderurgico d'Europa che è l'Ilva e quindi io prendo fatti reali e li utilizzo come sfondo poi nella Perfiedere Dio in realtà ho parlato anche di un clan malavitoso vero reale quello sì Shakespeareano quello dei Modeo che adesso non esiste più che era un clan fraticida si ammazzarono tra loro e sono stati gli inventori della mafia contemporanea perché capirono di dover passare dalle bische clandestine dalla droga allo smercio dei rifiuti tossici che è oggi il business criminale per antonomasia e costoro si uccisero tra loro il capostipite si chiamava il messicano perché aveva i baffacci alla Charles Bronson e qui come vedete la visione western ritorna però ecco il collegamento tra questi libri che in realtà abbraccia anche gli altri la legge di Fonsi di Ferro e Fuoco e persino i racconti di Aspetta di L'Inferno e non solo la Puglia ma alcuni personaggi ritornano ritornano in chiave spesso però minore in Brucialaria ci sono i fratelli Minghella che erano i cattivi da giovani di Uomini e Cani proprio perché sto descrivendo appunto una contea fin dal primo romanzo però tutti i libri sono godibili singolarmente indipendentemente anche il nuovo l'inedito sul quale sto lavorando in realtà parte dalle origini di alcuni di questi personaggi quindi ti sto rivelando alcune cose che non volevo rivelarvi a Santo Stefano però 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 diciamo appunto l'idea è di di scrivere più romanzi che alla fine raccontano un unico grande romanzo e anche questa è una lezione presa da maestri della letteratura Faulkner in primis ma insomma se vogliamo tutta la mitologia greca faceva la stessa cosa cioè per cui descrivere un grande ambiente storia per storia e quindi per me la Puglia è un grande serbatoio di queste storie storie che stanno accadendo anche mentre siamo qui a parlarne io so che laggiù stanno succedendo delle cose che io utilizzerò come riflesso come epitome di quello che voglio raccontare ed è ripeto un tentativo poi di fare un lavoro un po' più ambizioso una riflessione sul male attraverso la riflessione del male della Puglia non raccontata dalle cartoline turistiche provo a raccontare il male con la M maiuscola che è quello che fanno insomma tutti gli scrittori di genere nello specifico secondo me non è un caso insomma che da 50 e passa anni il noir sia riuscito a descrivere la contemporaneità molto più di quanto per esempio alcuni reportage giornalistici o alcuni saggi sociologici abbiano mai fatto quindi come vedete il lavoro da fare tanto è un lavoro meticoloso che va fatto non a caso in anni di studio e lavoro e che però porto avanti mi sento di portare avanti perché mi dà la soddisfazione che mi dà unendomi a quello che dice ad esempio nella legge di Fonzi che non troverete se non in qualche bancarella dell'usato finché non verrà ripubblicato siamo a Montesvevo che immagino non esista in Brucialaria siamo a Montesvevo Languore ci siamo in Brucialaria ci siamo in Uomini e Cani quindi quello che diceva e poi i nomi i nomi fanno veramente scassare nel senso che tutti i protagonisti tutti i delinquenti i buoni i cattivi hanno tutti dei noi mignoli quindi c'è Precamuerti c'è Ngannamuerti c'è Capu Malata e tutti questi qui si affrontano prima che nello spararsi nello scannarsi poi ci sono delle scene straordinarie io la prima volta che ho letto la scena della sparatoria cioè una sparatoria non vi dico né in che libro è né i protagonisti così ve li dovete leggere tutti e tre per arrivarci c'è una sparatoria in una sala biliarda da un certo punto ci sono tre fratelli che entrano in questa sala biliardo io poi inizio a a pensare alle domande che ti faccio raccontando questa cosa quindi io intanto vorrei sapere che musica c'è dietro questa scena tu avrai delle musiche in testa non lo so io me le sono fatte ci sono questi tre fratelli che vanno a sfidare un clan avversario entrano in una sala biliardo tu ti vedi questi tre io mi sono detto quando ho letto sta scena come scendono che facce hanno cosa iniziano a dire agli altri ho detto qua se Quentin Tarantino piglia per caso sto libro se lo traducono in inglese Tarantino piglia sto libro domani abbiamo il nuovo Kill Bill abbiamo Torre della Cocchiara sul grande schermo quindi parte questa lotta nervosa io adesso mi ero sottolineato in uno dei tre libri adesso la ritroverò un'altra scena dove lui descrive la tensione descrivere la tensione non è così così immediato però riesce a farlo in una maniera straordinaria e dopo questa sfida verbale parte una deflagrazione di fuoco pazzesca cioè ti trovi alla fine di questa scena che hai visto veramente Django sparare a tutti è una cosa straordinaria e quindi mentre lui cerca di trovare in se stesso magari non c'era ancora magari c'era già una musica o le ispirazioni che l'hanno portato a queste scene veramente per me perfette poi sicuramente tutto è perfettibile come lui ha detto in un'intervista in cui da uomini e cani ha dovuto restaurare uomini e cani per portarlo in Adelfi ha detto mi sono accorto che c'era un sacco di polvere da togliere stranamente molti lettori compreso me non si sono accorti così tanto del cambiamento ma leggendolo attentamente c'è e c'è forte e io vado a cercare la pagina della della tensione sì intanto io posso dire una cosa che Tarantino in realtà ha avuto non so se l'ha letto ma ha avuto uomini e cani perché uomini e cani i diritti di sfruttamento cinematografico li ha avuti per quasi un decennio Elisabetta Olmi la figlia di Armanno e lei è arrivata un tanto così dal fare il film e l'ha fatta avere anche a Quentin Tarantino il protagonista avrebbe dovuto essere Sergio Rubini che aveva già firmato poi purtroppo è venuto queste storie il vero problema di queste storie è che costano perché gli incendi gli scontri le pistolettate le battaglie le sfide fraccani sembra un paradosso ma costano costano perché non abbiamo più le maestranze in Italia per fare i poliziotteschi per fare i western e quindi è difficile trovare i fondi per fare questi film e quindi al momento quel film lì è in stand by e quindi l'ha letto però sì tornando alla musica voglio dirti che di mio ascolto tanto blues ti sembrava forse strano io ascolto molto Nick Cave quando fai il blues con Warren Ellis e quindi voglio dire che però se vogliamo attinge tanto anche lui a Morricone e Sergio Leone che non a caso prende anche tanto Tarantino cioè la questione che noi abbiamo nel sangue una cosa che evidentemente gli altri non ce l'hanno che è questo approccio tutto europeo se pensi che Sergio Leone ha preso il mito americano e lo ha trasformato in una sorta di bagarre romanesca però esemplare inarrivabile che è per certi versi quello che nel mio piccolo cerco di fare anch'io cioè prendo il mito di Faulkner di Cormac McCarthy e lo trasporto nella più profonda Puglia è un lavoro di adattamento se vuoi a degli stilemi che credo abbiano a che fare anche tanto con il gioco infantile del rielaborare le storie vorrei aggiungere qualcosa? no tu sei pronto a leggere un pezzo io sono pronto a leggere io poi volevo fare una domanda a Omar ma prima adesso il pezzo è caldo io vi leggo questo pezzo su come la tensione viene raccontata ok c'è un prete tra l'altro non risparmia nessuno nei suoi romanzi nel senso che la chiesa in generale ma soprattutto i piccoli preti o vescovi di provincia fanno delle figure orribili e sono sempre sempre commisti alla piccola delinquenza cercano sempre di approfittare di avere favori e qui siamo nella in brucialaria siamo nell'azienda di uno dei boss della mala questo boss della mala che è Preca Muerti la sua azienda è un'azienda di una pompa funebre e lui sta facendo il suo lavoro perché poi queste persone nella loro malvagità agiscono spesso con una lucidità incredibile e quindi questo come in un dipinto zen sta rimettendo insieme il cadavere di una persona col prete che gli chiede ma che lavoro state facendo oppure gli scagnozzi che si chiedono perché questo qua che è un potente fa questo lavoro e lui dice no no io questa cosa qua ce l'ho nel sangue il prete entra già tutto trafelato perché deve dare una notizia a questo Preca Muerti Preca Muerti sa già intanto tiene il prete per gli ammennicoli come si dice perché il prete è uno che vuole solo fare carriera e lui lo tiene fermo e poi sa che il prete ha una paura feroce di lui e gli dice ma voi forse siete stato lontano al prete voi forse non sapete chi sono io e il prete e quindi lui dice forse signoria la storia mia la conoscete poco perché siete di origine forestiera ma noi lo ettoniamo nel sangue in famiglia sto mestiere mio padre mi ha insegnato a sistemare i morti che ero alto a Cussì e prima di lui già mio nonno faceva le barre ai soldati americani tenevamo un campo dell'aviazione quassù a tempo di guerra sì sì figuriamoci se non conosco tutto si affrettò a chiarire il prete a Montesvevo sulla bocca di tutti state siete una specie di istituzione locale non esageriamo lo cresimò il boss levando risolente il mento barbuto prima di posargli una mano sulla spalla e poi la voce insaporita ad un sarcasmo pericolosamente in birico tra l'usinca e intimidazione precisò a denti stretti non c'è bisogno che mi leccate il culo a Cussì senza vergogna padre tanto lo sapunno pure le pietre che a voi vi interessa soltanto di fare carriera per l'arcipretura ci siamo già arrivati ci siamo attivati potete dormire sonni tranquilli basta dare tempo al tempo e comportarsi da galantuomini con gli amici il religioso si sbriciolò in una risatella artefatta fissandolo come avrebbe fissato un precipizio poche pagine dopo quando questo qua gli dice che viene a portargli notizie dello zio in galera e lo zio che ha dato la benedizione che lui possa essere il nuovo boss Preco Amorti fece schioccare la lingua padre andate al punto certo certo ci mancherebbe convenne il religioso rattrapezzandosi per l'imbalarazzo e poi riprendendo a tutto spiano le fine del racconto il signore Iginio è d'accordo ecco si è detto soddisfatto per come state operando e quindi vi concede la benedizione sua i lineamenti dell'altro si rincagnarono raccogliendosi in un preludio di risata che però non si concretizzò si è lamentato non è vero suppose sogguardando diffidente l'interlocutore che adesso una mano nevrile annettarsi il sudore dal faccione insignito di nei loccheggiava da sotto in su rifrangendo suo malgrado nelle pupille un allarme di preda sorpresa secondo me è tanta roba io non so ma se non fate scattare l'applauso voi io lo chiedo grazie grazie io volevo portarvi un po' sui personaggi perché comunque in questi tre libri ribadisco tre che ho portato io ci sono dei punti comuni allora avete sentito che ci sono nomi di personaggi che sono quasi onomatopee mezza facci preca moerti pilu russo qui c'è un eco verghiano evidente esatto poi ci sono personaggi che hanno un nome e un cognome in qualche modo nella storia hanno un ruolo predominante torre della cucchiara che è il protagonista se vogliamo di nella perfida terra di dio Rocco Caraglia Rocco Caraglia siamo invece al libro che è appena l'ultimo uscito brucia l'aria quindi sono uomini che hanno torre della cucchiara e Rocco Caraglia hanno qualcosa in comune secondo me io li vedo come uomini in bilico costante non so se tu li hai pensati così perché hanno un passato difficile di carcere o un passato scuro e sono sempre in bilico sempre costantemente tentati dall'ambiente malavitoso che se vuoi poi ti offre guadagni facili con tutti i rischi che comporta e quindi come dire hanno sempre una sorta di fragilità secondo me io ce la vedo e che faticosamente si tengono sulla retta via e poi vorrei portarti invece ai personaggi femminili in ogni libro c'è un personaggio femminile importante penso a Milena ad esempio di Uomini e Cani o Anunzia in Brucia l'aria donne che a fatica a fatica tengono la barra dritta adesso ti insegno un termine piemontese visto che tu ci regali tutto il tuo dialetto pugliese noi abbiamo un termine piemontese che rende alla perfezione quello che intendo cioè sono donne che hanno la cunisium che tradotto vuol dire buonsenno la sennatezza e che trovo ecco forse anche Antonia nella perfida terra di c'è sempre questo personaggio femminile che in qualche modo ha buonsenso poi troviamo anche personaggi diversi perché ad esempio in Brucia l'aria vi è la madre di Vittorio che soffre di ludopatia beve quindi ha una serie di dipendenze c'è la madre dei fratelli Caraglio che troviamo malata e che non riesce ad educare a tenere sulla retta via Gaetano il figlio più giovane e quando ci proverà sarà tardi però c'è sempre una figura di donna che si staglia in qualche modo donne giovani che tengono la barra e che c'è sempre nei tuoi romanzi sì io diciamo delego a queste figure per certi versi un invito alla 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 crescita dei loro uomini nel senso che sono le figure con le quali si rapportano questi appunto criminali di basso cabotaggio per esempio Nunzia nell'ultimo libro era il grande amore di Rocco e lui abbracciando la Sacra Corona Unita in qualche maniera l'ha perduta e nonostante resti il suo grande sogno d'amore lei gli fa capire che che ha fatto una scelta adolescente per l'appunto quella del potere immediato quella dei soldi facili e gli ricorda che come dire la complessità della della vita quotidiana di ognuno di noi in qualche maniera gli dice sì tu passavi a prendermi con la moto rombante e con il rotolo di banconote nelle tasche ci divertivamo ma poi a un certo punto la vita è arrivata e ha richiesto di pagare il suo pegno e quindi diciamo il tentativo in tutti questi libri è di fornire almeno un personaggio che parte come un cliché la pupa del boss la principessa da salvare se vogliamo e che però lentamente trova una sua forma di crescita di consapevolezza quantomeno e che quindi invita i propri affetti a crescere insieme a lei nello specifico Antonia per esempio a un certo punto quando diciamo prima che il personaggio scompaia fa anche una missione cioè lo abbiamo fatto insieme io amando un boss della saga Corona Unita in qualche maniera sono stata complice che è come a dire non posso lavarmi le mani e che se mi permettete anche la mia personale visione delle cose se devo collegarmi per esempio a come in Puglia vengono recepiti questi libri a coloro i quali si incazzano perché finisco per descrivere anche la polvere sotto il tappeto è la stessa approccio che io personalmente come uomo e come autore cioè quello per il quale dobbiamo noi stessi per primi cominciare a guardarci allo specchio per farci carico delle nostre responsabilità e quindi un invito a non puntare semplicemente il dito è sempre colpa di qualcun altro dell'amministrazione del governo del boss del mio capo o dell'amore che mi ha abbandonato cioè e se mi permettete la stessa cosa che avviene anche in terapia quando si va in terapia lo psicanalista ti invita a cominciare a familiarizzare anche con le tue zone oscure ecco quel ruolo ricoprono le donne nei miei romanzi quello di guardare se stessi e gli altri e cominciare a dire facciamoci carico anche delle brutture che se mi permettete è una visione adulta per l'appunto smettiamo di essere adolescenti e bambini nel momento in cui cominciamo a capire che la vita ha anche degli aspetti desolanti e che fanno parte probabilmente della nobiltà e della grandezza della vita e questo è quanto che mi sembra tanto è tantissima roba tantissimo e poi ci sono animali sempre ci sono i cani i cani sono una costante in brucialaria ci sono anche altri animali e c'è una scena terribile pulp proprio pulp che non dirò perché voglio anche mettervi un po' di curiosità e invitarvi a leggerlo veramente forte un'immagine forte però ci sono sempre i cani i cani che sono cani da combattimento perché questo ancora succede te lo chiedo succede ancora i combattimenti di cani addestrati in maniera brutale lui lo racconta brutalmente sì e no sì e no succede no succede succede probabilmente con meno intensità degli anni 90 quando c'era oggettivamente un diffondersi di queste pratiche adesso diciamo è un po' più complicato anche per il semplice fatto che in Italia le associazioni ambientaliste hanno imparato a farsi sentire e c'è anche una sensibilità maggiore verso gli animali però esiste ancora esiste ancora naturalmente questa cosa ha a che fare anche con una mia personale FIFA che mi porto appresso da quando ero ragazzino verso i cani che persiste ma che al tempo stesso contiene una estrema fascinazione io ho cominciato a scrivere facendo in realtà il fumettista l'aspirante fumettista quindi ero un disegnatore e ancora adesso provo una grande fascinazione verso i molossi no? perché sono muscolosi sono cani che ispirano e hanno una forza una potenza che fa anche paura ma che è oggettivamente elegante è pura potenza che quindi mi induce alla fascinazione alla seduzione ma mi spaventa terribilmente e quindi a un certo punto il cane è diventato l'animale figura utopica per me io in questi cani ci metto dentro tutta la rabbia incontrollabile forse che che mi appartiene magari o che sicuramente è la rappresentazione di certo sud perché questi cani nello specifico sono spesso cani che finiscono per farsi male da soli esattamente come i loro proprietari ecco per certi versi è una rappresentazione e del meridionale e forse anche dell'occidentale tutto cioè personaggi figure che hanno in sé una potenza quindi una possibilità una capacità di fare cose buone ma che spesso finiscono per cedere alla parte animale una parte ferina di sé e quindi ci vedo anche una metafora interessante come scrittore per eleggerli a qualche cosa di più trascendente ecco io chiedo che se qualcuno che ha già letto i libri o che non ha letto i libri volesse intervenire a chiedere qualsiasi cosa lo possiamo fare in qualsiasi momento alziamo la mano eccetera per tornare un secondo le sue tematiche sono veramente archetipiche nel senso io mi sono segnato la corruzione la generosità quello che lui diceva prima che quello che lui utilizza i temi che lui utilizza nei suoi libri sono poi esportabili a tutti si indirizza all'umanità la questione del provare a essere generosi o attivi in prima persona e non delegare le cose agli altri cioè esce dal romanzo per proporsi alla realtà quasi per dare un consiglio e nella la generosità come macro argomento è trattato nei suoi personaggi con tutta la forza dirompente del del termine dell'aggettivo quindi non è la generosità che si consuma in un atto che spesso è un atto narcisistico fine a se stesso tante volte più utile a chi lo combina che a chi lo riceve è la generosità ad animo quindi profonda e quando leggi tanta profondità di sentimento ti metti allo specchio e capisci che sei così importante sei così fondamentale se è così bella questo tipo di generosità il non averlo è un problema l'averlo è un casino perché ce l'hanno gli eroi ma noi ci mettiamo davanti allo specchio vediamo che non ce l'abbiamo e ci fa un po' male però sai no sono quei dolori preziosi che ti fanno crescere non sono sicurissimo di poter contenere tutta questa roba nel senso che poi non è interamente un discorso fatto a tavolino nel senso che io ho cominciato ad approcciare a questo genere di racconti mosso esclusivamente come potete immaginare dalla passione e forse anche dal bisogno di raccontare delle storie e quindi quando parlo prima parlavo del serbatoio di storie che è la mia Puglia la mia terra io mi accorgo che ci sono delle storie che voglio raccontare e che sono state quelle che mi hanno permesso la scintilla perché questo cammino cominciasse cioè volevo fare come dicevo il fumettista a un certo punto ho capito scrivendo le sceneggiature dei miei ipotetici fumetti che c'erano delle storie che andavano raccontate il mio stesso cammino di scrittore è diventato professione nel momento in cui ho accantonato semplicemente i miei personalissimi sbattimenti e quindi ho alzato la testa dal mio ombelico per cominciare a raccontare la terra nella quale ero cresciuto e quindi mi sono accorto che questo fa parte di un discorso più ampio cioè credo per esempio che sia interessante notare come nell'ultimo ventennio regioni come la Puglia e come la Sardegna non a caso e vi dirò perché hanno espresso un sacco di cineasti scrittori musicisti di un certo rilievo perché sono per esempio terre che hanno si sono raccontati una realtà molto più turistica e di successo di quanto realmente forse in realtà sono cioè la Sardegna e la Puglia in questo momento sono quelli che durante l'estate fanno il pienone con i resort di lusso le navi le feste da noi viene Justin Timberlake a sposarsi Albano cioè sembra che la Puglia sia eternamente una festa perenne con il tramonto mozzafiato sullo sfondo ed è così ma dura due mesi una volta che la stagione turistica finisce rimaniamo meridione rimaniamo sud rimaniamo a fare conti con i lacerti della questione meridionale e rimaniamo a fare conti con le contraddizioni di una terra del sud che intendiamoci ripeto in quelle contraddizioni noi ci possiamo vedere le contraddizioni dell'uomo moderno cioè non sto dicendo che il sud sia necessariamente diverso da tutto il resto del mondo in questo momento anzi mi sembra che si possa oggettivamente fare una riflessione ben più ampia perché ci ritroviamo a fare i conti con alcune mancanze che evidentemente da decenni l'uomo l'occidente si porta appresso ma diciamo il discorso si fa complesso quindi voglio dire ho cominciato ad alzare lo sguardo e raccontare il mio sud e mi sono accorto che questo discorso va a incunearsi in una serie di narrazioni che dal sud e dai sud in questo momento arrivano quindi ecco perché mi sento anche stimolato a continuare a farlo poi però ecco se dovessi diciamo trarre degli insegnamenti è la ragione per cui io non faccio saggi antropologici non faccio ogni tanto li faccio pure mi vengono richiesti ma non faccio reportage giornalistici perché in realtà un artista secondo me non è bravo a trovare risposte è bravo a sollecitare domande ed è quando e forse così possiamo chiudere se vuoi anche questa nostra questo nostro colloquio questa nostra discussione è la ragione per cui alla fine io dicevo sembrano libri privi di speranza in realtà mi accorgo che in questi decenni di presentazioni io la più grande speranza che ho trovato è durante le presentazioni nel vedere che non tutti sono d'accordo con quello che scrivo e che invece alcuni vengono a stringermi le mani dicendo che è una realtà documentaria quindi in entrambe le reazioni sia di disgusto e di riprovazione sia invece che di grande empatia con quanto scrivo io ci vedo una risposta che evidentemente la mia arte sollecita e che quindi finisce per dare un senso a questo mio passare i pomeriggi a trovare la parola giusta perché lì per lì sembra anche una cosa maniacale invece evidentemente narrare ha un suo senso ha un suo senso perché aiuta ecco perché se volete torna il discorso del fruitore non come passivo non come irresponsabile ma c'è uno scambio io ti faccio vedere delle cose tu le condanni o le approvi insieme come dire istoriamo un confronto e questo fa sì ecco è semplicemente la risposta del perché i libri sono importanti cioè perché instaurano un dialogo non necessariamente solo con l'autore ma tra di noi siamo qui a parlare di sud a parlare di Puglia nelle Langhe ed è bellissimo e poi magari tra di voi c'è qualche pudiese che sta pensando ma questo perché parla così la mia Puglia non è così e anche quello io la trovo come una grande fonte di ispirazione come una grande fonte di speranza quando giù i politici si incazzano con me perché descrivo una Puglia che loro invece non vogliono vedere comunque è una cosa che mi fa piacere perché io so che alcuni di quei politici stanno lavorando sinceramente per cambiare questo stato delle cose poi ci sono i malviventi quelli ci sono in ogni campo però so che realmente c'è gente che sta lavorando per scollarsi di dosso l'idea di un meridione piagnone ed è il grande paradosso perché anche io descrivendo il meridione piagnone sto lavorando per scollarmelo di dosso e quindi come vedete c'è uno scambio che non interessa più solo l'ego dello scrittore ma forse ci accomuna in un grande sentire grande un applauso ci vuole grazie io ringrazio tantissimo ringrazio Daniela poi le passo la parola per chiudere e vi invito a fare una cosa a leggere i libri se non li leggete poi vi vengo a pigliare a casa insieme a Gangnamuerti e soprattutto andatevi a vedere anche il suo profilo su Facebook lui non lo utilizzava e Instagram e Instagram ha iniziato a utilizzarlo da due anni da quando c'è stata la pandemia e lui propone quasi quotidianamente fotografi pittori o registi estremamente interessanti tante volte io sono molto appassionato di fotografia in libreria ne ho infinità che non venderò mai e continuo a acquistare dei libri perché sto disgraziato mi fa mi ispira in continuazione e oltre a tutto questo fa delle fotografie spettacolari queste fotografie fatte tendenzialmente in Puglia sono delle rappresentazioni sono dei 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 su quelle che sono queste terre e sembra di vedere ti puoi trovare in Oklahoma in Texas come la sua ispirazione arriva da McCarthy da Faulkner quindi dalla grande letteratura americana anche la fotografia poi ne proponi anche di 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 nordici non è focalizzato solo sugli americani ma sembra di stare in quei posti lì e sono fighissime quindi vi invito veramente ad andare a vedere queste cose poi è stimolantissimo per per tutto comunque lasciami dire che oggi ho pubblicato un posto in cui semplicemente ero abbracciato da bravo fan al busto di Pavese a proposito allora a proposito intanto rilancio l'invito che vi ha fatto Carlo se qualcuno ha qualche domanda si palesa e approfittatene ci sono i libri di Omar in vendita naturalmente penso che tu sia contento di farci una firma e poi questa è un'idea che mi è venuta stamattina faremo quattro presentazioni di libri nel corso di questo Pavese Festival e stamattina ho pensato di fare un omaggio a questi quattro autori ma non voleva essere casuale quindi l'omaggio che è qua avrà un elemento comune a tutti ora te lo può vedere perché è un omaggio libresco c'è questo libro a Torino con Cesare Pavese questa bellissima collana di Giulio Perrone questo è scritto da Pierluigi Vaccano che è il nostro direttore naturalmente parla di Pavese e parla di alcuni temi pavesiani importanti per me è stato chiarificatore su nodi basilari di Pavese quindi la donna l'America il mito è un bel libro l'altro e qui viene l'elemento personalizzato ho pensato a te ho pensato quale libro di Pavese regalo a Omar e non potevo non regalarti Paesi Tuoi grande Paesi Tuoi che è il primo romanzo di Pavese è il romanzo che più risente delle letture e dell'amore che Pavese aveva per la letteratura americana e poi a una prefazione di Nadia Terranova qui faccio uno spot per noi che sarà con noi ad ottobre a parlare di tre malanotte non potevano regalarti Paesi Tuoi come dice un mio amico che oggi non ha potuto essere qua che è un giovane scrittore promettente di Santo Stefano si chiama Alberto Dottoroglio lui dice Paesi Tuoi letteralmente ti prende per il Bavero e così è ti prende per il Bavero e ti porta qua in queste colline in queste terre che sono state segnate forse più in passato che ora forse più ai tempi di Pavese prima ancora da violenza anche da drammaticità che c'è anche nei tuoi libri e quindi insomma non potevano regalarti i Paesi Tuoi grazie grazie veramente come dicevamo prima per noi scrittori Pavese e Fenoglio sono i nostri maneskin per cui noi siamo dei fan allora lì ci sono i libri se volete c'è un aperitivo offerto anche questa è la più bella notizia questa mattina assaggeremo un calice dei nostri dei nostri colli naturalmente e qualche cosina di buono grazie a te grazie a te grazie mille ragazzi se posso rubarvi un secondo vorrei dire questa cosa a Omar e a tutti voi un mio carissimo amico che è arrivato da poco mi ha fatto da poco vedere uno dei documentari più belli che io abbia mai visto si chiama il re del mosto ok ti invito a vederlo perché sono 40 minuti guardatelo tutti dedicato a Giacomo Bologna che è stato un grande vignaiolo oste non ubriacolo festaiolo delle nostre zone ok e mentre invitandoti di nuovo qua perché tu adesso sei qui e io sono con te sono contentissimo ma ti voglio fortemente ad Alba prima o poi prossima volta prossima volta chiaramente e vi lascio con questa cosa che Bruno Lauzzi dice dei piemontesi all'inizio di questo documentario Bruno Lauzzi è quasi steso sulla poltrona con gli occhi chiusi e dice io ho conosciuto i piemontesi qualche anno fa i piemontesi sono matti i piemontesi sono dei brasiliani con la nebbia dentro grazie c'è Paolo Conte anche c'è Paolo Conte lì in mezzo anche